Iniziando a mettere a tema alcune importanti figure della storia della chitarra, mi sembra opportuno prendere le mosse dal nome di Francisco Tarrega. È infatti possibile, più di quanto venga normalmente riconosciuto, individuare in questo maestro un vero e proprio caposcuola, in quanto con lui si realizza un nuovo inizio nella storia della chitarra, attraverso la sua opera di trascrittore e compositore. La novità consiste sostanzialmente nel fatto che con Tarrega si realizza, tra 800 e 900, un nuovo approccio strumentale alla chitarra, teso a ricercarne il personale linguaggio e a valorizzarne i connotati più specifici. Sulla linea del tempo della storia chitarristica si colloca qui un passaggio epocale che mostra gli albori di una nuova concezione dello strumento, ora francato dagli stilemi a cui la chitarra d'epoca classica e romantica si era affidata. Non più un linguaggio ostinatamente teso all'espressività orchestrale, bensì una chitarra che trova un'espressività più propria e personale, nella cura della linea melodica, dell'essenzialità espressiva, nel timbro. È interessante domandarsi l'origine da cui tale novità possa essere scaturita, e in tal senso è significativo osservare innanzitutto il fatto che la formazione di Tarrega fu segnata da una preparazione musicale ampia e non esclusivamente chitarristica. Egli infatti studiò innanzitutto pianoforte, conosceva bene il violino e praticò il quartetto d'archi. È Emilio Pujol a confermarci la sua familiarità con questi ambiti strumentali, quando scrive «Tarrega aveva vissuto in un ambiente musicale nel quale predominavano il pianoforte e gli strumenti ad arco». Il fulcro del suo atteggiamento in tal modo, anche dopo la scelta di dedicarsi alla chitarra, fu l'attenzione verso la letteratura classica. Egli, cioè, non si mise innanzitutto al seguito del repertorio chitarristico che lo precedeva. Significativo è il desiderio di portare sul suo strumento autori come Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Chopin. Ciò venne realizzato evidentemente con risultati non sempre ugualmente efficaci, ma quello che in questa sede ci interessa notare è il fatto che il desiderio di nobilitare la chitarra abbia indotto Tarrega a prendere una strada nuova, evitando, per così dire, quella di tanti chitarristi e compositori che lo precedevano, e che lo avrebbe fatalmente condotto verso il linguaggio di una letteratura chitarristica che rimaneva prigioniera, per così dire, entro i vincoli di una ormai cristallizzata tecnica compositiva e strumentale. Ecco dunque il ruolo paradossale di una formazione non specificamente chitarristica. Determinare quell'interesse per il repertorio classico che avrebbe portato la chitarra stessa su una strada nuova. La chitarra si allontana da tutti gli stereotipi così tipicamente chitarristici da divenire ormai privi di interesse della sua precedente letteratura, per trovare proprio così un linguaggio innovativo, o quantomeno per realizzare quel distacco dalla letteratura precedente di cui la chitarra aveva bisogno per sviluppare un nuovo linguaggio. Così il maestro avrebbe realizzato nel modo più autentico quella che Pujol definisce compenetrazione con il carattere dello strumento. Si faceva avanti una nuova fase estetica nella quale la chitarra abbandonava ogni complesso di inferiorità nei confronti delle grandi sonorità romantiche, per giungere ad essere null'altro che se stessa.